E allora sì, ci sono tante cose da cambiare in questo paese, ma noi abbiamo, vedo collegato con noi, e lo ringrazio, il Vice Premier Matteo Salvini che è, diciamolo, è molto soddisfatto perché le elezioni sono andate molto bene, vittoria del centrodestra, l'abbiamo raccontato nel Lazio, nella Lombardia, ma non solo, la Lega che recupera rispetto anche alle elezioni politiche di settembre, molti avevano già suonato le campane a morte, il leader in crisi, e la crisi, e la maggioranza che si fa, e invece è soddisfatta, la cartina dell'Italia fra il 2015 e il 2018 dà la testimonianza, insomma, della crescita del centrodestra, però lei sa che noi siamo fuori dal coro, fatta tutta questa premessa, io devo metterle lì due dati, caro Vice Ministro, che devono farla riflettere, il primo dato è questo, i voti mancanti, cioè in Lombardia ci sono molti meno votanti rispetto al 2023 e molti meno votanti anche per la Lega, che, insomma, è andata meglio del previsto, però ha perso un sacco di voti, e l'altro dato che le vorrei sottoporre è il rapporto tra Lega e Fratelli d'Italia, che nel corso degli ultimi anni, ecco qua, si è invertito, voi, come si vede, avete recuperato rispetto alle politiche, però, insomma, i rapporti di forza, questo è il voto in Lombardia, si sono un po' ribaltati, e queste due cose la fanno riflettere Vice Ministro? Vice Premio, scusi, Vice Ministro, Vice Premio. Io, Mario, rifletto quando mi alzo e rifletto quando mi addormento e sono collegato, innanzitutto buon San Valentino, a chi è a casa, a chi è innamorato o chi sarà innamorato, sono in ufficio, questa è la sede milanese del Ministero dei Trasporti e dei Lavori Pubblici, che è il ruolo che gli italiani, col voto di settembre, mi hanno consegnato, un'enorme responsabilità, curare strade, autostrade, sicurezza nelle stazioni, ponti, porti, aeroporti, ferrovie, treni pendolari, alta velocità. Io penso, e arrivo alla tua domanda, che una parte del voto per la Lega e per il centrodestra, che è stato un voto inaspettato, abbondante, sopra il 50%, derivi anche dal fatto che molti italiani hanno apprezzato questi primi 100 giorni di governo, la caparbietà, il fatto che abbiamo sbloccato cantieri, opere pubbliche ferme, mantenuto promesse, creato lavoro. Sicuramente l'astensione è un dato, è una bocciatura per tutti, quindi io non vengo qua il martedì di San Valentino a dire viva e viva abbiamo vinto, no, sarebbe poco intelligente. Il voto che ci è arrivato, per cui ringrazio, il voto che non ci è arrivato per i cittadini che a Roma e Milano sono rimasti a casa, mi dice che dobbiamo lavorare ancora di più, essere ancora più efficaci, più concreti e restituire speranza. Il dubbio, il dubbio, però, la domanda che molti si fanno è se questo nuovo assetto con la Meloni così forte vi permetterà di lavorare meglio o se questo cambiamento anche di equilibri non creerà qualche squilibrio. Insomma, i rapporti non sono sempre stati, avete risolto e superato molti problemi, non sono sempre stati, come dire, i dilliaci, no, ci sono stati molti problemi. Questa elezione aiuta a risolvere i problemi della maggioranza o li rende più problematici? No, innanzitutto dà un voto alla squadra, promuove la squadra. Io non sono contento solo perché la Lega è cresciuta. In Lombardia, fra i voti Lista Lega e Lista Fontana, siamo cresciuti di più del 10% rispetto a solo quattro mesi fa. E nel Lazio abbiamo preso il 23% a Rieti o il 20% a Latina. Però sono contento perché è cresciuta anche Giorgia, è cresciuto Silvio, vince la squadra. Però io qua con lei devo parlare dei temi di attualità, anche politica, e la cosa di cui si parla molto sono, lei ha citato prima Berlusconi, le frasi di Berlusconi su Zeleschi. Ti falle sentire, Donato? A parlare con Zeleschi, se fossi stato Presidente del Consiglio non ci sarei mai andato, perché come sapete stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage di suoi soldati e di suoi civili. Bastava che lui cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe avvenuto. Quindi io giudico molto, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore. Lei è d'accordo con Berlusconi o con il governo che ha ribadito il convinto sostegno a Chiem? Ma il governo parla con i fatti. Noi abbiamo sempre sostenuto in Italia e in Europa come lega e come centrodestro compatto il sostegno a un popolo aggredito. Poi mi permetto di non commentare le frasi di Silvio Berlusconi che ha tutto il diritto di esprimere liberamente il suo pensiero, la collocazione nazionale e internazionale dell'Italia non si discute e ti faccio vedere perché penso ad altro. Questi sono, li ho trovati qua in ufficio, i tomi, un riassuntino del codice degli appalti che dovrebbe aiutare le aziende a lavorare e i sindaci a fare i cantieri. Ecco io di tutta sta roba qua sto lavorando per averne una versione unica che il Parlamento dovrà approvare il 31 marzo. Quindi più che di geopolitica, di Zelensky o di Fedez e di Sanremo mi preoccupo di tagliare un po' di burocrazia, di far lavorare gli italiani in più. Adesso però una domanda anche su Sanremo la farò, ma a proposito di strade e autostrade è arrivato lo stop definitivo, la messa al bando delle auto a benzina e diesel dal 2035. Una follia. Ci fa anche Mario, lei fa le autostrade, ma poi la gente non ha le auto per andarci sopra le autostrade perché chi è che può permettersi in questa situazione di cambiare la macchina? C'è una forzatura. 2035 è domani. È una scelta ideologica, figlia appunto di ideologia o di ignoranza oppure qualcuno suppone anche di malafede. Siccome Mario tu hai visto che nelle ultime settimane al Parlamento Europeo hanno trovato e arrestato gente che andava in giro con valigette piene di dollari dal Qatar, dal Marocco perché erano pagati secondo l'accusa per fare gli interessi altrui. Qua o c'è qualcuno da Pechino che spinge qualcun altro a fare scelte suicide oppure c'è qualcuno che non capisce. Io mi domando anche gli europarlamentari italiani del PD e dei 5 Stelle e di Renzi come hanno fatto a votare qualcosa che danneggia gli operai italiani, le industrie italiane, gli artigiani italiani e avvantaggia solo la Cina che è la più grande produttrice mondiale di batterie e di auto elettriche. Ci vuole del tempo, ma come la direttiva che dice che gli italiani devono sistemare casa loro. Tu ti occupi di case. Ma secondo te in un momento di crisi come questa è una follia. La gente ha 30-40 mila euro per cambiare il tetto, cambiare i serramenti, cambiare le porte alle finestre. Ma lei ha detto una cosa, però lei sospetta che ci siano pseudo green. Ma lei sospetta che ci siano dietro questo? Ma non si spiega. Ah, quindi lei sospetta che ci possano essere dietro quelle altre valigie di denaro? No, sospetto, mi viene il dubbio. Se tu decidi, io chiudo Rete 4 stasera per tutelare l'ambiente e finanzio Telepechino e allora o sei scemo oppure c'è qualcosa dietro, perché non si spiega una roba del genere. Le auto elettriche le produciamo in Italia? No. Le auto elettriche le produciamo in Europa? No. Dove le producono? In Cina. Se io fra dieci anni vieto di vendere e comprare le auto a benzina e a diesel e obbligo tutti ad andare in giro con l'auto elettrica, chi ha vantaggio? Roma? È chiaro, è chiaro. O è una scelta mio, peottusa e sbagliata, oppure ci sono altri interessi dietro che io non conosco e non capisco. Comunque posso assicurare a chi è a casa che sia sulle direttive che mettono a rischio le case, sia sulla direttiva che mette fuori legge le macchine, come Ministro, come Lega e penso e spero come intero governo diremo la nostra e cercheremo di opporci o quantomeno di rimandare, di accompagnare questo percorso, un colpo a dare dei soldi a uno che vuole cambiare la macchina o sistemarla a casa. Un conto è obbligarlo. È chiaro, è chiaro, senatore, però è venuto il momento, devo farglielo sentire, sono obbligato a farglielo sentire a Amadeus. Che cosa? Amadeus. Se la prende col festival di Sanremo, basta non guardarlo. Spero che scelga un buon film per i ragazzi e che i suoi ragazzi siano felici di guardare il film e non la finale di Sanremo. Ha visto il film sabato sera? Si è perso la finale di Sanremo con l'atto sessuale, mimato, il bacio? Se l'è perso? Guardi, sabato sera ero con mia figlia che ha appena avuto una splendida pagella di quinta elementare e la mia splendida Francesca in giro per Firenze, con tutto rispetto per Amadeus. Viva la musica, viva l'arte, viva il festival. Una cosa su cui ragionare sarà la RAI, sarà quanto costa agli italiani la RAI, sarà valutare l'opportunità di cui sono convinto di togliere canone dalla bolletta della luce che è già abbastanza pesante e di pensare se anche in Italia come in altri paesi europei la televisione pubblica non possa essere libera, gratis, senza gravare sul portafoglio dei cittadini, anche perché ci sono stipendi milionari, ci sono agenti esterni che guadagnano un sacco di quattrini. Io penso che Mediaset vada in onda brillantemente senza chiedere un euro a chi è davanti al televisore, penso che anche la RAI potrebbe sforzarsi tagliando dei costi di fare altrettanto. Lei pensa che ci sia stato un uso politico del festival di Sanremo? Ma guardi, se hanno provato a usarlo politicamente per avvantaggiare la sinistra, hanno sbagliato calamorosamente, visto che gli italiani al voto in Lombardia e nel Lazio hanno votato in maniera esattamente opposta a come immagino Fedez si sarebbe auspicato. Poi ognuno ha i suoi gusti musicali, il festival della canzone, mi auguro che torni a essere unicamente il festival della canzone. Io non l'ho seguito perché ho lavorato, non per spocchi, se tanti italiani l'hanno seguito vuol dire che era interessante, mi permetto di dire, penso di poterlo dire da 49enne, che vedere uno che sfascia il palco e prende a calci dei fiori, che sono frutto del lavoro della gente, non mi sembra al massimo, e vedere gente che mima atti sessuali, possono essere oterosessuali, omosessuali, pansessuali, transessuali, non mi interessa, in prima serata, sul primo canale, con milioni di persone a casa, non mi sembra una trasgressione o un inno alla libertà, mi sembra qualcosa di pessimo gusto, però è un mio parere, faccio il ministro dei trasporti, mi occupo di strade, di A14, di Piedemontana, di Ponti sul Po e di Ponte dello Stretto, quindi non faccio i palinsesti RAI, semplicemente lavorerò perché la RAI costi un po' di meno ai contribuenti italiani. E parlare di Costituzione è stato giusto? Alla presenza del Presidente Mattarella? Ma la Costituzione, a parte che il Presidente Mattarella ha tutto il diritto di andare, sostenere, difendere, tutelare e proteggere, quindi ci mancherebbe altro che sono io per opinare su quello che fa il Presidente, la Costituzione si difende col lavoro di tutti i giorni, si difende con le battaglie di libertà e di democrazia di tutti i giorni, non penso che abbia bisogno di essere difesa dal palco di Sanremo, però ripeto, non faccio i palinsesti i RAI e non mi interessa, cattivo gusto, ahimè ce n'è stato, buona musica anche, non li ho sentiti in diretta, però il pezzo di Mengoni è un grande pezzo, Tananai mi sembra un ragazzo pulito, fresco e la sua tango mi piace molto, come Mister Rain piuttosto che Grignani. Ma non teme dopo le parole che ha detto anche qui stasera che le dicano ecco la solito centrodestra brutto e cattivo che va all'attacco della RAI, assedio alla RAI, attacco alla RAI. No ma l'attacco della RAI, ma figurarsi, no no ma io dico semplicemente che è fondamentale avere un'azienda che fa servizio pubblico, che diffonde cultura, che diffonde bellezza, che fa conoscere le straordinarie perle che ha il nostro paese, che poi la televisione pubblica abbia dei palinsesti curati da agenti esterni, da produttori esterni, da procacciatori esterni e privati che fanno giustamente il loro business, ecco non mi sembra assolutamente natural, detto questo è la mia prima preoccupazione, no, io mi sto occupando di sicurezza stradale, sono collegato da un ufficio che è il provvitorato alle opere pubbliche della Lombardia, perché il tema della sicurezza stradale è quello sì, su cui vado a letto con ansia la sera, non Fedez o Amadeus, perché avere 3.000 morti sulle strade italiane ogni anno da papà è qualcosa che mi angoscia, quindi portare l'educazione stradale a scuola e ritirare le patenti di chi guida drogato ubriaco marcio, sì, è qualcosa che mi toglie il sonno, Sanremo onestamente il sonno non me lo toglie. Va bene, il nostro tempo è finito, volevo farle vedere, ma lei le guarderà perché so che segue i nostri servizi sulle case, siamo andati a vedere le case occupate anche della regione Lombardia, allora visto che avete di nuovo vinto con largo margine la regione Lombardia, la prego, dica al governatore Fontana di buttare un occhio su questi servizi, sulle case occupate della regione, poi lì c'è la discussione regione, comune a chi tocca, però insomma sono situazioni che non si possono tollerare, penso che sia d'accordo con me. Lo farò assolutamente perché chi occupa ruba il diritto a qualcun altro che è in fila, io odio quelli che saltano la fila, in posta al supermercato o in graduatoria per le case popolari, quindi voi fate davvero servizio pubblico, ecco questo è servizio pubblico che costa 0 euro agli italiani, quindi onore al merito a fuori dal coro a Mario Giordano. Grazie molto, dice premia, tra poco noi vi porteremo anche negli immobili occupati dagli anarchici, quelli che poi scendono in piazza a protestare, ci raggiungerà Vittorio Feltri, per cui restate lì, fermi immobili, immobili!